Mi chiamo Valentina, Andrea, Aschiera Vauraneo, Barnaba, Valentina, Bruno Luca, Benvenuti a 5 day! Ho 22 anni, 19, 18, 22, 18 anni, 16 anni. Frequento la scuola di Martano, Salvatore Trinchese di Martano, Pseo Otranto, Istituto Alberghiero di Otranto. E frequento l'alberghiero di Otranto. Un convegno molto interessante per la formazione di noi giovani alla fine di questi anni scolastici. E' un progetto, un'iniziativa molto interessante per noi giovani. Ci hanno parlato dei mestieri verdi e di alcune opportunità, per esempio di volontariato all'estero. Siamo qui nell'Istituto Alberghiero di Otranto a concludere gli infodei relativi al progetto Orienta Giovani, finanziato tramite un progetto dell'Unione delle Provincie Giovani Italiane, che ha una serie di partner, tra i quali c'è la provincia di Lecce, insieme alla provincia di Agrigento e Confindustria. Anche oggi abbiamo illustrato ai ragazzi le opportunità legate alle professioni verdi, soffermandoci in maniera particolare su quelle che sono le occasioni di mobilità che l'Europa dà. Il futuro è verde, è stata una bella occasione per presentare ai giovani i programmi europei che permetteranno loro di poter conoscere meglio l'Europa, di potersi inserire sia come cittadini, sia anche come employermente, come occupabilità all'interno dell'Europa. E in un settore particolare, il settore della green economy, un settore che potrà permettere di trovare lavori interessanti e soprattutto di salvare questo mondo, finalizzando appunto questo lavoro.